Ciao cari amici, ieri sono state diffuse le informazioni in Italia, sui media italiani, nei giornali, hanno parlato anche sui canali televisivi, del fatto che Vladimir Putin, presidente della Russia, ha avuto un infarto, è quasi morto, però poi si è stabilizzato, caduto, insomma, hanno diffuso anche i particolari, che lui ha cercato di alzarsi di mattina, di colpo, poi è caduto, ha rovisciato le tazze con il tè e così via. E ovviamente tutto il mondo occidentale, tutti quelli che di solito pendono dalle labbra di vari scribacchini, vari finti giornalisti, finti esperti, tutti quelli che sono abituati ad ascoltare la propaganda atlantista, subito hanno iniziato a urlare, ecco, Putin è morto, Putin sta morendo, la Russia è finita, l'Ucraina ha vinto e così via. Io ovviamente ieri non ho commentato questa notizia, perché intanto ho aspettato che tutti questi voci un po' si calmino, e poi ho anche osservato questo sceno spettacolo, come l'ho già fatto diverse volte, da fuori, dalla distanza, cercando di capire chi e come diffonde queste bagianate. Per me è molto interessante a capire come funziona il segmento della propaganda occidentale, come vengono diffuse certe notizie, come vengono, diciamo, messe in funzione certe fake news. Per questo io sono stato lì ad aspettare, non ho fatto il video subito. Ovviamente si tratta di una, dell'ennesima fake news, dell'ennesima notizia falsa, perché si tratta di notizia falsa? Innanzitutto perché a diffonderla sono stati gli ucraini. Come sappiamo, quello che arriva dall'Ucraina, in gran parte, sono le notizie false, se le inventano, soprattutto quando parlano della Russia. Loro vogliono far credere a tutto Occidente che loro sono in mezzo alle questioni russe che hanno delle agenti, hanno delle loro, insomma, talpe. Per questo hanno già nel passato, diverse volte, parlato di presunti attentati contro Putin, la morte di Lukashenko, la morte di Kadyrov, e Putin è ammalato di questo, e Putin è ammalato dell'altro, e lui prende i farmaci, e lui ha un particolare rigonfiamento del viso, insomma, di queste cavolate se ne hanno già parlato ampiamente, lui continua a vivere, ha già visto andare via tre papi, quindi ha già cambiato tre papi, per cui io invito a indicarmi un altro politico in carica con la sua longevità sia biologica sia politica, e quello che si è rilevato da questa storia, da questa innesima fake news, è quello che, a mio avviso, è sempre più chiaro, è che il nostro segmento propagandistico occidentale funziona sempre peggio. Ormai le notizie false, quando le inventano, non si preoccupano più neanche a seguire minimamente quella che è una minima fonte, controllare da dove arrivano certe cose. Ovviamente è molto complicato quando si condividono le notizie, soprattutto quando si condividono le notizie che ci sono su internet, nei siti come Telegram, ad esempio. È molto complicato verificare le notizie, perché spesso si tratta di notizie che hanno qualche fonte. Io, ad esempio, diverse volte sono finito nelle situazioni dove mi è capitato di condividere le notizie false. vai alla fonte, trovi la fonte, c'è in effetti, ma controllare oltre non c'è la possibilità, e quindi una persona si sofferma e dice ma cosa faccio? Non posso controllare la struttura della fonte. C'è un sito, c'è un'agenzia di informazione che ha condiviso questa notizia, va bene. La condividi anche tu, citi la fonte, poi dopo, magari dopo due ore, questa fonte scompare, il sito viene chiuso, se qualcuno clicca, va a vedere, gli dà un errore, e tu capisci che hai condiviso le notizie false. Ma questo può succedere a una persona, uno come me, che da solo gestisce il blog, che non ha una squadra di giornalisti, non ha un'enorme struttura. Invece quando una struttura gigantesca come i media occidentali condividono una bagianata, tra l'altro rappresentando la fonte come una totale autorità, questa è una cosa veramente vergognosa. Cosa è accaduto in realtà? C'è un canale Telegram, un canale Telegram chiaramente propagandistico, chiaramente provocatorio, che si chiama General SVR. SVR in russo vuol dire Služba Vnešni Razvedči, Servizio dell'Intelligence Esterna. Così si chiama quella parte dell'ex KGB che si occupa di spionaggio esterno. Tra l'altro è stato il dipartimento nel quale ha prestato servizio anche Vladimir Putin quando era il maggiore della KGB. Voi immaginate una persona che gestisce un canale del genere. È chiaro che sul canale Telegram si può scrivere qualsiasi cosa. Io posso aprire un canale Telegram e chiamarlo Regina Elizabetta oppure posso chiamarlo Mike Tyson oppure posso chiamarlo Leone Tolstoi. Su Telegram non c'è nessun criterio che può dimostrare la veridicità della mia persona. Io posso chiamare come voglio il mio canale. In effetti su Telegram ci sono alcuni canali falsi che si chiamano Nicola e Lilian che non li ho aperti io, li ho aperti qualcuno. Stessa cosa vale per questo canale. che si è chiamato generale del servizio dell'intelligence estera ma non è detto che lì è un vero generale del servizio estero che gestisce questo canale. Anzi, io sospetto che a un generale russo del servizio estero non frega proprio niente di avere un canale Telegram con 17.000 iscritti nel quale lui scrive le bagianate su politica russa e sul leader russo. Io ho letto i messaggi, il tono dei messaggi, il modo di scrivere messaggi di questo canale. posso dire che si tratta sicuramente di un provocatore perché quando parla di Putin ad esempio spesso parla del fatto che Putin ha numerose quantità dei sosia che in realtà Putin non è più vivo ma è morto e adesso governa il suo sosia e io ho trovato su questo canale anche questo tipo di informazione. ho letto attentamente ieri sera ho fatto tutta una carellata di notizie che scrive la persona che conduce questo canale e a mio avviso si tratta di un personaggio che ha aperto questo canale con la voglia di provocare di condividere le notizie provocatorie cosa fanno gli ucraini i giornalisti ucraini prendono un commento da questo canale commento totalmente inventato non ha nessun appoggio lui dice in questo commento cari amici stamattina presidente Putin ha avuto un infarto caduto ha rovesciato la tazza con il tè cioè è una narrativa è un non so un piccolo racconto di fantasia non è scritto da dove è arrivata la notizia chi è stato a riportarla almeno poteva dire mi hanno riferito i militari che svolgono il servizio di sicurezza presso Vladimir Putin presso la sua presidenza e così via oppure non so mi ha riferito il medico il contatto con il medico niente semplicemente un racconto totalmente folle che sembra quasi un racconto nostalgico cioè la nostalgia per un desiderio di morte di Putin e questa cosa viene presa dai media ucraini trasformata in una notizia cioè gli ucraini dicono in sostanza i generali del alcuni generali del servizio di intelligence estera estero hanno condiviso questa notizia che Putin ha avuto un infarto io quando ho letto questa cosa ho detto ma sì è palese che questa è una notizia falsa però i media ucraini si sono basati su questo canale telegram i nostri giornalisti tra virgolette questo branco di incapaci che noi abbiamo a posto di professionisti ma ormai sappiamo come funzionano veramente danno attenzione a una notizia del genere anzi la fanno trasformare nella notizia del giorno Putin ha avuto infarto guardate tutti è morto basandosi su che cosa su un commento su telegram su un post su telegram di qualche millantatore che è stato trasformato dai giornalisti ucraini in un reale generale di servizi segreti russi e i nostri giornalisti occidentali riportano questa notizia come già una cosa sicura è una roba veramente allucinante noi viviamo chiaramente in un mondo di ansioma proprio siamo totalmente distaccati dalla linea della realtà oggettiva e viviamo in un mondo finto per l'ennesima volta io questa cosa la capisco percepisco leggendo queste bagianate vi posso dire che io personalmente non lo so come sta Vladimir Putin io non so se lui ha il sedere che le prude oppure ha un brufolo su un piede oppure ha un occhio che le fa male oppure ha un raffreddore non lo so è impossibile saperlo tutte le informazioni su stato di leader e di gruppo di principali politici è un segreto di stato non si può saperlo non esiste nessuno che vi può dire Putin ha avuto un attacco di cuore oppure Putin ha un raffreddore Putin prende medicinale e così via queste informazioni sono segrete per la natura specifica dell'attività delle persone coinvolte quindi non ci sarà mai un dottore un medico un militare dei servizi segreti che vi potrà rivelare questa cosa non sono persone di questo tipo di questo calibro intanto sono ben pagati sono molto ben controllati e lì chi si avvicina a queste persone ormai è fidelissimo e non ha alcun interesse personale di gestire un canale telegram sul quale raccontare come sta presidente Putin è veramente un'idiozia e chi non lo capisce chi oggi non capisce questa semplice cosa o è un idiota o è un malafede quindi io credo che i nostri giornalisti chiamarli proprio idioti non posso perché penso che loro sono persone che sono arrivati al loro livello per qualche merito anche di intelligenza però sono in malafede loro condividono le informazioni fasulle le informazioni false proprio perché vogliono farlo vogliono convincere le masse occidentali che Putin sta morendo che ha dei problemi di salute di adesso addirittura infarto io vi ricordo che quando arrivano simili situazioni nella propaganda occidentale propaganda occidentale ha un funzionamento molto particolare se c'è una questione urgente da da condividere se c'è qualcosa di importante che accade nel mondo che va in qualche modo affrontato ma che va contro la linea narrativa degli oligarchi anglosassoni che sono i padroni dei nostri mainstream dei nostri giornalisti allora i nostri giornalisti inventano una notizia falsa la diffondono pur di distrarre le masse da una importante notizia reale che però deve essere seppolta quindi pur di non parlare del fallimento totale dell'esercito ucraino in prima linea pur di non parlare ormai di fallimento di politica di Zelensky chiamarla politica poi un'offesa alla politica anche alla peggior politica pur di non parlare di questo argomento loro spostano attenzione sulla finta morte di Putin vergogna veramente vergogna io una cosa del genere io non pensavo di arrivare a tali livelli a vedere tali dimensioni di menzogne però insomma viviamo in un mondo democratico e a quanto pare la democrazia ci preserva molte cose ancora interessanti quindi carissimi io non so come sta Vladimir Putin perché sicuramente a me lui non scrive i messaggini non mi fa alcun rendiconto sul proprio stato di salute così come non lo fa a nessun altro lo sanno persone della sua cerchia che come ho appena spiegato sono persone motivate sia economicamente sia ideologicamente e non hanno alcun interesse di rivelare queste segretissime informazioni a giornalisti ucraini o a giornalisti occidentali quindi qualsiasi informazione sullo stato di presidente Putin se non arriva direttamente dal portavoce ufficiale di presidente Putin che Dmitry Peskov se direttamente il suo portavoce non ci racconta come sta Putin tutto il resto sono le balle e vengono trattate come tali non bisogna assolutamente credere in queste idiozie quindi io credo che noi veramente stiamo toccando il fondo qua in occidente con queste storielle pur di non parlare di grossi enormi problemi che ci sono nel mondo i nostri scribacchini cosa si inventano questa volta infarto di Putin prima c'era Kadirov che stava morendo che ci aveva in pratica era in coma l'abbiamo visto dopo due giorni che faceva una corsa mattottina salutava tutti Lukashenko doveva morire si è ammalato gravissimo anche lui in reanimazione dopo due giorni tranquillamente dice ma no in realtà sono rimasto a casa un paio di giorni perché ha avuto una raffreddoria insomma ma quanto vogliamo smettere con queste balle quanto l'Occidente smetterà di trasmettere queste idiozie non siete ancora stanchi? io un po' sì va bene amici questa è la mia opinione su ciò che è successo a Putin io penso che lui adesso da qualche parte si occupa delle sue solite cose e probabilmente qualcuno le ha già detto di queste idiozie e lui sta ridendo insieme con la sua cerchia di quanto sono cretini qua in Occidente perché credono a dei scappati di casa giornalisti ucraini che si inventano di sana pianta tutto e gli occidentali sono ben contenti di prendere queste bagianate come base per costruire le bagianate ancora più cosmiche e Putin ride a mio avviso comunque amici se volete approfondire le notizie che invece i giornalisti occidentali non vogliono condividere con voi che censurano e dei quali non vogliono parlare io vi invito di abbonarvi al mio canale privato telegram il link per l'abbonamento troverete nella descrizione di questo video andate sul mio canale e troverete tantissime cose importanti legate alla realtà oggettiva che però i nostri media non vogliono raccontarvi perché vi vogliono tenere nell'ignoranza nel buio vi vogliono tenere all'interno di una bolla di menzogne se volete sostenervi io vi invito anche di abbonarvi perdonatemi di iscrivervi al mio canale youtube di commentare i miei video di condividere i miei video con i vostri amici vi ricordo che in tutte le librerie di dettaglio c'è il mio libro che si chiama la guerra e l'odio si tratta di un libro che racconta le origini della guerra in ucraina se vi interessa questo argomento leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene e vi voglio bene